Massimo, finalmente i play-off. Una squadra molto forte, la Lazio, ma questa primavera se la vuole giocare. Sì, assolutamente sì. Diciamo che è stato un percorso abbastanza altalienante per noi. Abbiamo fatto cose importanti a cose un po' meno importanti. Adesso ci siamo preparati, penso e spero, abbastanza bene. Adesso affrontiamo questa partita, questa prima battaglia per provare a raggiungere questo obiettivo. Passa da Roma, da una squadra che comunque si è preparata ad andare subito su, ha fatto un percorso di stagione dove comunque tre quarti di campionato è stata sempre davanti e nel finale ha perso un po' qualche colpo. Adesso si ritrova a fare i play-off con noi. ce la giochiamo, siamo pronti, siamo preparati. Adesso vediamo un po' come sarà questa partita. Ecco, il fatto di non poter speculare sul risultato andata e ritorno tutto in 90 minuti può essere un vantaggio. Bisogna dare tutto e cercare di vincere. Ma sai, è un vantaggio. Se riusciamo a fare quello che sappiamo sicuramente possiamo dire la nostra. A prescindere da quello che potrà essere il fattore campo, i 90 minuti. Noi dobbiamo esprimere quello che i nostri giocatori comunque hanno dimostrato durante la stagione. Avere un pizzico di fortuna che non guasta e speriamo soprattutto di farci trovare pronti. Poi quello che verrà speriamo che sia qualcosa di positivo e importante perché comunque sono ragazzi secondo me validi che meritano una bella soddisfazione. Una parola la possiamo spendere anche sulle altre annate del settore giovanile perché ci si è tolti delle buone soddisfazioni e non è finita come nel caso dell'anno 17 e anche per loro iniziano gli spareggi. Sì, anche lì con la 17 abbiamo raggiunto un bel traguardo. Un traguardo dove comunque significa che stiamo seguendo un percorso, che stiamo seguendo comunque una logica e questi risultati comunque ti gratificano ma soprattutto, ripeto, gratificano i ragazzi perché comunque quotidianamente si impegnano, si fanno trovare disponibili e hanno voglia di migliorarsi. Come l'ha fatto comunque la 16 che comunque fino alla penultima giornata si sono giocati playoff, come l'ha fatto la 15, come l'hanno fatto comunque tutte anche le altre annate di attività di base dove anche oggi siamo qui a vedere una squadra di under 13 che comunque oggi parliamo di risultati anche se non si dovrebbe, però comunque come in tutte le cose il risultato ti fa capire che comunque ci sono giocatori bravi, ci sono dei ragazzi pronti e si mettono a disposizione dei nostri staff per migliorarsi. Per questo è una cosa che ci gratifica di più ed è normale che lì dove viene anche una gratificazione sotto il punto di vista del risultato è più per i nostri ragazzi, per i nostri staff per tutto quello che fanno durante la settimana.